Allora, andiamo verso tutta la Breckley Bay della Madonna, venite con me signori, vi faccio vedere come si cammina scalzati a busto eretto o come si cammina quattato, quante volte c'è bisogno del grip e allora ti devi mettere a quattro zampe, andiamo ragazzi, dai, venite con me, non dovete avere paura di mettere il piede sul fuoco, dai, vi faccio vedere come si trova l'acqua, si deve scendere sempre giù a valle per trovare l'acqua signori miei, venite con me, dai. Andiamo a farvi vedere Breckley Bay, state attenti a queste cose, si può anche bere qui dentro se si scava sotto, ma a me mi faccio proprio schifo, dai, venite con me, guardate, abbiamo trovato una piazzola di sosta, questo qua di solito sono posti dove, ah, dove si può bere l'acqua, questo è troppo bene, e allora signori, guardate, qua si può bere l'acqua, quando trovate del legno portatevelo con voi, ma non se è bagnato, l'imuerto, 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 l'imuerto. Venite con me, vi porto verso il lago, venite, ci sono delle montagne che si possono scalare, delle montagne che non si possono scalare, ricordate però, venite con me, andiamo a vedere, attenti alla cacca nel cammello, è bevibile. Dai ragazzi, su, quando scendete dalle discese dovete portare il quarto grip, altrimenti il quattro per quattro, non scappa, è la birra. Signori, una birra con una mano e il quattro per quattro da dietro, il tre per quattro, il tre per due, sentite il rumore dell'acqua, c'è il sorgente vicina. Ragazzi, andiamo, attenzione all'iscurzione, l'imuerto di questa, a me che ne ha mai dimesso gli scarpi, ay! ecco qua c'è una piazzola di sosta dove uno ci si può stendere ma state attenti all'iscursione venite signori andiamo signori come vi avevo promesso c'è acqua in quest'acqua dopo essere arrivati i scalzi c'è bisogno di sciacquarsi il piede qui si potrebbe pescare andiamo più avanti vediamo un po' cosa c'è ma non puoi mettere qui cacca di cammello questa era bevibile se non era asciutta che schifo ma che cazzo ci mettiamo a pescare potrebbe andare là ma io non li vedo si potrebbe andare più avanti ma senza scarpe io non vado da nessuna parte ciao ragazzi alla prossima avventura con Breckley Bay e trova l'acqua nel deserto grazie a tutti grazie a tutti